a guna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio gamer 89 siamo tornati su un nuovo open impact ne stiamo facendo tanti perché ci stanno i toti è il momento giusto per fare open impact proprio c'è proprio la shorty cari e mi riporta qua allora ci sta di maria iniesta e cross ci proviamo sempre di centrocampisti e l'ultima possibilità e più c'è sta sanchez disco e tutti gli altri insomma come vedete mi sono venduto un giocatore a 900.000 ok andiamo sul negozio però la c'è il trasferimento sinistra ok pacchetti oro vai che ti ho che sta di vecchiettivi succulenti esatto ci stanno i pacchetti pro madonna so ma so proprio sono belli comunque davvero il problema è contenuto allora intanto il problema è quello anche il paduro va fatto vedere grazie per il mi piace se lo mettete se non lo mettete chi è chi è chi è quindi signori mettendo un bel like da due a me prima sembra se è buggato a lui in avrei tre ma non altro mancazzo prognare allora iniziamo con un pacchetto un pacchetto va bene ok vedo vuoi amico tu no ormai aspetta torniamo indietro no no ormai tu e no che palle simone e la c'è tanto di sicuro è sicuro ma ha fatto schippa sto stronzo e torna a dire tanto di sicuro mamma mia cosa trovi viva ma metterà per strappa maglietta lo giuro portarci su a suo fiuto puttana o l mortacci su ieri quello toti davido luiz te cornuto c'era ieri cornuto patrizio era ieri già faccio 96 era tipo c'ha la faccia del merco faccia da c**o mamma mia so più nel pacchetto e c**o c**o c'è niente nessuno che costa la lira del dio ma questo pacchetti a 50.000 hamburger con mani king cognate e se vergognino no a quanto pare no guarda me stanno a mettere tutti 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 dentro al pacchetto insieme guarda è proprio un testo da mettere 60 litri insieme di 5.000 80.000 levandoschi appa vero mappa buu buonissimo 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 è levandoschi ma insomma negamo ma è forte in c**o oh so contento eh lavandino levandoschi dico so contento eh lavandino levandoschi dico so contento però ne che me l'ho trovato damme qua damme qua damme qua ne me l'ho trovato insomma fa c**o trip o fa c**o oh e oh ah oh guarda che roba guarda che roba mia mamma mia questo è un toti assicurato eccolo guarda eccolo sento puzza del blu guarda più troppo più messe su c**o no aaaahoo ho trovato bacca he trova solo a b obo e young ma a hashefa non c'ha wogia uff sti vadchetti oro de m*****a eh apri 1 la c*****a mi? no aiuto apri un tutto in 2 io l'ultimo si? tutto in due io? si? Giite c**o? no si girate come me pare buono 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 non costa tantissimo mi sembra ma Modric non costa tanto ma Modric è buono il gusto di trovare Modric è il gusto di trovare eh l'ho trovato io ma anche uno tot no però due 87 trovato eh Levantino Lewandowski e Modric e adesso per concludere per fare 87 più 87 uguale 96 di Maria ti rompo vai madonna mia non guarda eh non guardo non deve non guarda non guardo faccio io mi fai tu faccio io va bene faccio io va bene non ho trovato nessuno se non è esploso secondo me no qualcosa ho trovato per costa andare a cercare allora ecco ho trovato la merda lo sapevo io no mi apro vai apri apri solo diecolino costa costa faccia da scimmia ma lo sta a dire guarda adesso però non li vendere eh perché costano molto di meno perché ci stanno i toti ok quindi aspetta e poi tu vuoi rivendere e poi vuoi rivendere ok è pure è trovato diego costa lavandione vandoschi e modric ok dai non se potremmo lamentare però ho trovato castro ma che te è morto stavo sotto il pensiero sotto il pensiero pronto ho capito ho fatto biancorpo a mortaggi tua ho trovato castro va bene castro e che castro ti è comunque questi cazzo tifo costano più di 10.000 eh no però giocare ha rischiato un infarto no calcola ci è mancato poco stavo a pensare a tutti i cazzi miei castro adesso sarà blu madonna rimanevo così sì ibra if magari ibra if no corona corona quanti ne stiamo trovando tanto vale 10.000 tra l'altro mentre se stiamo a fare i cazzi di nostra cioè proprio faccio dei montaggi montaggi incredibili farò proprio de merda no perché quello ha trovato quello quell'altro ha trovato quell'altro e non è nulla bo eh questo no è che quello ha trovato la toti eh allora adesso l'amore mio mi aprirà tre pacchetti di questo qua amore non sei tu tre pacchetti amore mio me devi trovare uno blu sì quello è te meno apri ne uno blu se trovi qualcosa de blu lancia blu se tu se lo facciamo così prometto se trovi una carta blu prendi il pad te lo spacchi per te è vero faremo io va bene boom vai blu blu mortacce non nera blu quante è possibile tre pochi tre possibilità c'hai ecco vati so tre andiamo a farlo subito sul mio spaccato xbox umano ok non hai trovato una menchia amore mio ok e uno l'evo scartato esatto io controllo sempre niente mo c'è lo stampara babor punto salute amore grazie amore ciao ciao patrick grazie amore ma mi vede per me simone se mi trovi uno blu ti spaccano giù le panni in faccia no oh ma d'altra volta l'ho capito mo mi dai mezza piota c'è qui ce l'ho vale 10.000 eh stai divi datta tu mo mi dai mezza piota oh un taglio vale cazzo oh che merda signori gli ultimi due pacchetti è tutta la web come si è mossa oh che cura ecco qua un altro if i borra i borra comunque i borra i pipurra i pipurra ragazzi i borra va bene 4 if hai trovato si pure 900.000 ho speso hai trovato 4 if diego costa e buono comunque ho trovato roba buona signore signori abbiamo questo copricellulare 15.000 forse un altro da 5.000 non si sa probabilmente ma eccolo mamma mia gabagli mamma mia signori è stato un opening pack gagliardo molto molto gagliardo io esatto 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 però io a sto punto vado al mio club dato che c'ho 76 giocatori ok cosa dicevo jaguin castro i borra bergner e corona in più abbiamo trovato lewandowski modric modric e costa vabbè oh me dici cazzo sparridge e anche shurley e ramirez tutti io già ho trovato che culo ok io intanto sto scartare a cazzo a cazzo a turizzi scarta no non c'è problema più quindi andiamo sul negozio l'ultimo pacchettino da 7.500 ecco qua 7.500 signori questo video è da 15.000 like pure 20.000 se proprio vogliamo metterla così e niente ok finito signori se il video vi è piaciuto pollice in su commentate condividete che ci stanno a partire un sacco di sordi faremo l'opening pack degli attaccanti appena usciranno per chi i sordi ci stanno più basta open impact sapete non è che li posso fare sempre anche perché non mi va tanto la spendere gli sordi bella ciao